Il Giro d'Italia torna al sud e torna soprattutto in Calabria. Due le tappe della Corsa Rosa del 2020 previste nella nostra regione, la settima di venerdì 15 maggio da Mileto a Camigliatello Silano e l'ottava il giorno a seguire, sabato 16, da Castrovillari a Brindisi. Tanti i campioni delle due ruote che anche quest'anno cercheranno di rendere speciale la Corsa Ciclistica che partirà da Budapest il 9 maggio per concludersi poi a fine mese con la classica sfilata per le vie di Milano. L'edizione numero 103 della Corsa Rosa che prevede 21 tappe percorrerà 3579 chilometri ma l'edizione 2020, dicevamo, nella seconda settimana toccherà anche la Calabria con una tappa, quella che partirà da Mileto e arriverà a Camigliatello che con i suoi 22 chilometri finali tutti in salita, passando prima per Catanzaro e poi per il Valico di Montescuro, potrebbe riservare le prime sorprese di classifica. L'ultima volta che il borgo turistico dell'Alto Piano Silano ospitò una tappa del Giro d'Italia, era il 25 maggio del 1982, all'epoca la carovana rosa partì da Palmi e arrivò in Sila dopo 229 chilometri. A trionfare all'epoca fu il francese Beccà con Francesco Moser in maglia rosa. Poi c'è la conferma di Castrovillari, sempre più città riferimento per il Giro, ospiterà la partenza dell'ottava tappa che arriverà a Brindisi dopo 216 chilometri pianeggianti. Un nuovo appuntamento in rosa per il capoluogo del Pollino, che il 12 maggio del 2017 ospitò la settima tappa nell'edizione del centenario, la Castrovillari-Alberobello. Marco Lefosse per la CNews24.